buongiorno sono Urbano della Sanemureno Volkswagen Audi di Fuscecchio oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco usato si tratta di questa bella Audi A1 1600 turbodiesel tre porte dell'anno 2011 allora intanto vi faccio vedere queste immagini della carrozzeria esterna che tra l'altro si presenta molto molto bene quindi esternamente veramente una macchina molto bella solo un piccolo graffettino qui nel parauti ma niente di gravoso a livello di accessori abbiamo i suoi cerchi in lega da 15 pollici fari fendinebbia internamente la sua tappezzeria in questo bel tessuto nero naturalmente come il nostro nostra abitudine è stata lavata igienizzata è stata appartenuta ad un solo proprietario non fumatore quindi internamente la macchina ripeto è bella non presenta cattivi odori non non ci sono buchi sui sedili non ci sono strappi abbiamo poi il suo climatizzatore manuale l'autoradio originale con il cd la vettura ha percorso 139 mila chilometri naturalmente anche a livello di manutenzione tutta tutta tagliandata l'autoradio quindi è stata controllata anche molto bene cosa dire la vettura è già disponibile per la vendita quindi la potete già venire a vedere a provare potete telefonare per chiedere informazioni per prendere naturalmente anche un appuntamento ripeto per la visione e la prova c'è la possibilità di fare dei finanziamenti su questa vettura se il cliente ci richiede un preventivo naturalmente a tassi agevolati quindi anche a livello pagamento c'è la possibilità di trovare la sistemazione giusta quindi cosa dire venite a vedere questa vettura venite a vedere anche tutte le nostre altre proposte potete anche telefonare ripeto e chiedere informazioni a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e come dico sempre alla prossima vettura usata grazie